La volpe e il cane Una volpe, voi sapete che le volpi attaccano anche gli agnelli, seguì piano piano un gregge e trovò un agnellino. E gli si avvicinò e cercava di azzannarlo, ma c'era il cane, il cane da pastore, allora un cagnone grosso, che disse, cosa stai facendo? E sto accarezzandolo perché lo voglio far giocare, mi piacciono gli agnellini che giocano. E il cane disse, va via, va via, che so cosa voglio rifare, stai attento che come giochi con lui, io gioco con te. Questo dimostra che molte volte alcuni si fingono benevoli, ma per avere un risultato diverso.